Il Museo dei Ferri Taglienti a Frosolone è uno scrigno che conserva la storia della secolare arte del forgiare le lame che ha caratterizzato artigiani e artisti del paese. Forbici, coltelli, attrezzi da lavoro, una storia che si è evoluta nel tempo. Nel museo voluto e valorizzato dal compianto sindaco Lelio Pallante sono stati raccolti pezzi antichi e per i visitatori sono stati allestiti spazi rappresentanti le vecchie botteghe con i macchinari d'epoca. Molto suggestiva poi la raccolta di armi da tutto il mondo, di epoche diverse, lame, pugnali persino dalla Persia. Da qualche giorno è arrivato un nuovo materiale storico a Frosolone che è stato catalogato con scrupolo e arricchirà il museo. 54 armi bianche provenienti da Napoli, armi confiscate dai carabinieri, apprivati e valorizzate in alternativa alla destinazione usuale della rottamazione. Le armi ritenute di interesse storico non possono essere distrutte ma destinate ai musei. Ora impreziosiranno il Museo dei Ferri Taglienti secondo i criteri storici e stilistici esposti a Villa Artemide durante il laboratorio di musealizzazione tenuto dal curatore della mostra il noto archeologo Glauco Angeletti per l'evento organizzato dalla direttrice artistica Fatima Fraraccio dal titolo dall'abbandono alla valorizzazione. Tra armi orientali e occidentali false e originali di diverso scopo e metodo d'uso, Angeletti, ha detto Fatima Fraraccio, ha regalato una lezione di antropologia tattile identitaria in quello che è il centro molisano per eccellenza della produzione di forbici e coltelli Frosolone.